Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito safegatepro.com Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo, mercoledì 9 febbraio, avremo un netto rinforzo dell'anticiclone dell'Azzurra su tutta Italia. Questo anticiclone sarà alimentato d'aria nettamente più mite alle medio-alte quote proveniente dal settore subtropicale caraibico, quindi aria fin troppo mite per il periodo che farà impennare le temperature soprattutto in montagna, sia al nord, sia al centro, sia al sud. In Abruzzo, giornata quasi primaverile con cieli sireni ovunque, ventilazione nel complesso debole. La temperatura nei valori massimi è destinata ad aumentare, valori fino a 13 gradi alle basse quote, ma aumentano le temperature anche in montagna. Lo zero termico si porterà oltre i 2500 metri di quota. Ancora freddo di notte all'alba, però anche nell'ore notturne avremo un lieve aumento delle temperature. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Safegate Pro. Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito.